9 anni e 2 mesi di reclusione. Questa la pena inflitta dal tribunale di Arezzo ad Alex Danuti, il romeno che aveva investito ed ucciso la piccola Letizia di soli 10 anni e la mamma Magena il 31 gennaio scorso mentre stavano passeggiando in un marciapiede nei pressi di San Leo. L'uomo difeso dall'avvocato Carmen Capoccia doveva rispondere di omicidio colposo e guida in stato di ebrezza. Aveva scelto la strada del rito abbreviato. Il PM Giannelli aveva chiesto una pena di 12 anni, 10 per l'omicidio colposo e 2 per la guida in stato di ebrezza. Le analisi effettuate subito dopo la tragedia evidenziarono infatti un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito per legge. Il gruppo Pier Giorgio Ponticelli è deciso invece per una pena ridotta a 9 anni e 2 mesi. Probabile il ricorso in appello. Luca Fiacchini, marito di Magena e babbo della piccola Letizia, si costituirà parte civile e sarà rappresentato in aula dall'avvocato Raffaello Giorgetti.